Buongiorno e ben ritrovati alla Rassegna Stampa, oggi è martedì 7 gennaio 2020 e siamo in diretta alle 7 del mattino per sfogliare i quotidiani che come di consueto abbiamo il nostro touchscreen ovvero il Corriere Adriatico e il resto del Carlino. Cominciamo con il Santo del Giorno però lo vediamo subito con l'aiuto della grafica, oggi è San Silvestro Raimondo di Penaforte, il sole sorgerà alle 7.41, tramonterà alle 16.45, il tempo sarà sereno con aumento della nervosità nel pomeriggio sempre nel tardo pomeriggio avremo possibilità di isolati piovaschi sul settore costiero settentrionale quindi nella provincia di Pesaro Urbino nel corso del pomeriggio, tardo pomeriggio inizio serata avremo anche dei venti, mentre domani mercoledì 8 il cielo sarà sereno poco nuvoloso, attenzione alle gelate anche notturne soprattutto nei fondovalle, così come giovedì, giovedì avremo un cielo sereno poco nuvoloso con temperature ancora in diminuzione ma il tempo resterà stabile anche all'inizio della prossima settimana ma siamo già abbastanza in là. La notizia del giorno, come ben potete immaginare, è la notizia che ha tenuto banco in tutta la giornata di ieri, già da ieri mattina quando si sono diffuse le prime notizie circa quell'incidente mortale che ha coinvolto due donne della provincia di Pesaro Urbino, di Colli al Metauro una maestra e una parrucchiera, due donne che uscivano dalla discoteca a Senigallia sono state falciate da un'auto guidata da una persona che poi è risultata essere ubriaca il suo tasso alcolemico quattro volte superiore rispetto al consentito insomma una giornata da dimenticare quella di ieri ma di cui parlano questa mattina parlano i giornali con titoli in primo piano e in apertura, questa è l'edizione del Corriere Adriatico vite spezzate, titola così, ubriaco, travolce e uccide due donne sulla arceviese le vittime di Colli al Metauro uscivano da un locale senigallese arrestato per duplice omicidio l'investitore dice era tutto buio, non le ho viste, sono distrutto, dice Massimo Renelli di Senigallia lo ha detto agli agenti che lo hanno arrestato per duplice omicidio stradale poi dicevamo parrucchiere maestra, le vittime unite dal ballo, il piacere, il desiderio di andare in discoteca e di passare qualche ora spensierata ballando sciocche e incredulità a Calcinelli, la frazione di Colli al Metauro dove Elisa, Rondina e Sonia Farris vivevano la prima era insegnante di scuola primaria, la seconda parrucchiera improprio questa invece la fotonotizia del resto del Carlino sia l'edizione di Pesaro che quella di Ancona aprono esattamente con questo titolo Guida ubriaco e le uccide, falciate da un automobilista ubriaco all'uscita della discoteca a sinistra Sonia Farris mentre a destra l'amica Elisa Rondina, insegnante e nel riquadro invece Massimo Renelli colui che adesso rischia grosso, rischia di passare molti anni in carcere Sonia Farris dicevamo 34 anni, di Zerondina 43 residenti a Calcinelli avevano trascorso la serata al Megadiga e Senigallia sono state travolte da Massimo Renelli che di professione fa il camionista aveva un tasso di alcol quattro volte superiore al limite ed è stato come dicevamo arrestato questa invece è l'apertura di Macerata dedicata allo show della Befana piazze piene Macerata, Civitanova e Recanati ecco l'auto, ecco il luogo, il punto in cui l'investitore ha colpito con la sua auto le due donne le affalciate all'uscita della discoteca camminavano lungo il cilio dell'Arceviese per raggiungere la propria auto, aveva un tasso alcolemico quattro volte superiore come dicevamo, questa è la ricostruzione di quello che è accaduto alle 5 la festa che dunque diventa tragedia poco prima delle 5 del mattino sono uscite le due donne dal Megà per raggiungere l'auto parcheggiata ad un centinaio di metri lo schianto non ha fatto in tempo ad arrivarci non hanno fatto in tempo ad arrivarci perché sono state investite uccise dalla Fiat Grande Punto Grigia condotta da un autotrasportatore 48enne di Senigallia l'uomo è risultato positivo all'alco con un tasso quasi quattro volte superiore al limite consentito ed è stato arrestato poco dopo dalla polizia stradale chi erano? Elisa, come abbiamo detto Elisa Rondina, 43 anni, maestra di scuola primaria Sonia, 34enne, titolare di un'attività di parrucchieria uccise dopo la discoteca questa è la pagina invece del Corriere Adriatico che descrive la tragedia della Befana con il punto esatto in cui è successo in questa strada come vedete dove c'è questo rettilineo poi una semicurva insomma il parcheggio della discoteca che è qui il luogo invece dove è avvenuto l'investimento lo cerchiamo adesso di rosso eccolo qua lui dice al telefono Renelli ha detto quando ha chiamato i soccorsi ho investito qualcosa di grosso di molto grosso non ha parlato di persone e dalle 4.30 quando c'è stata questa telefonata ai soccorritori soltanto alle 7 qualche ora dopo Renelli è risultato positivo all'alcol test dunque intorno alle 7 è scattato l'arresto per duplice omicidio stradale questa è la pagina dell'arresto del Carlino che racconta di quello che poi è successo subito dopo la telefonata ai soccorsi da parte di Massimo Renelli camionista di Serigaglia che è stato arrestato ma che è subito apparso in stato confusionale le lacrime dopo l'interrogatorio in questura dice lui sono distrutto mi dispiace scrive Silvia Santarelli questa mattina sul resto del Carlino a proposito di questo uomo di 47 anni dice molto conosciuto nella frazione di Cannella anche in località Borgo Catena il 47enne è ben voluto da tutti era il tipico burlone ma nelle ultime settimane complici anche le festività natalizie e l'ancora fresca separazione dalla moglie si era un po' spento inoltre nemmeno un anno fa aveva perso il suo padre a cui era molto legato nonostante questo però questo periodo piuttosto difficile sui social non nascondeva la sua indole divertente e quando rientrava a casa dopo il lavoro prima della separazione trascorreva il suo tempo con moglie e figli ma anche con gli amici del circolo da ieri per Massimo è iniziata la partita più difficile quella che dovrà giocarsi contro la legge ma anche quella ancora più difficile con la sua coscienza la strada era buia racconta ancora lui dice lui non le ho proprio viste appena ho capito che era successo qualcosa di grosso mi sono fermato con l'auto e ho chiamato il 113 e per Senigallia è un'altra tragedia come dice e ricorda il sindaco Mangialardi a distanza di quella di Pega a distanza di tre giorni soltanto dalla morte di Pega Naddafi che è una 29enne studentessa senigallese di origini iraniane è falciata a mestre mentre attraversava la strada quindi altre due donne hanno perso la vita dopo essere state falciate da un'auto condotta da un ubriaco e l'Arceviese è una strada maledetta per i residenti questo è il punto della morte dicono esasperati dopo anni di incidenti qui le auto scorrono veloci così hanno ribattezzato la strada della morte così l'hanno ribattezzata la provinciale Arceviese e i residenti in prossimità della discoteca a poca distanza dal civico centro dove la scorsa notte appunto sono morte le due donne il residente ha visto questa persona che i colleghi del Carlino hanno intervistato uno di questi residenti non è l'unico ad aver visto tantissima gente lasciare le auto in sosta sulla strada ho trascorso la prima parte della serata con mia moglie nel locale poi verso le due quando ce ne siamo andati ho visto che molti avevano parcheggiato lungo la strada proprio come facevamo tanti anni fa dice questo cinquantenne di Senigallia poi questo uomo con molti altri curiosi ieri mattina è tornato così come hanno fatto in tanti nel parcheggio del locale ho sentito quello che era successo insomma ribadisce insomma che comunque quella strada è una strada che va assolutamente messa in sicurezza ecco qui l'altra foto invece e qui siamo sul Corriere Adriatico della persona arrestata Massimo Renelli quando gestiva il circolo di Cannella dove era intransigente tra l'altro sull'alcol Renelli faceva l'autotrasportatore ed era l'oste di questo circolo Acli ed era era intransigente per la vendita di alcolici è accusato di dubbligo e omicidio stradale rischia fino a 18 anni di carcere e il direttore del Megà sconvolto il direttore della della discoteca sono sconvolto per quanto accaduto dice Enzo Tombari titolare insieme al fratello Gabriele della discoteca Megà ho scoperto solo nella tarda mattinata di ieri quello che era accaduto sono andato via verso le 6.30 ho visto passando che c'erano i vigili del fuoco la polizia però mai avrei potuto immaginare una cosa del genere ho pensato ad un incidente ma sembrava una situazione tranquilla veicoli in mezzo alla strada non ce n'erano poi era anche distante dice lui dalla discoteca quindi non potevo immaginare che si trattasse di due mie clienti sono davvero addolorato due amiche che erano venute a Senigallia per trascorrere una serata all'insegna del divertimento invece hanno trovato purtroppo la morte e chi sono queste due donne che hanno perso la vita in questo incidente ci sono i profili i racconti nelle pagine dedicate a loro dai due quotidiani locali Carlino e Corriere qui siamo di nuovo sul Corriere Elisa Elisa Rondina 43 anni come dicevamo la maestra che aspettava di diventare zia sciocche lacrime a Calcinelli dove tutti la conoscevano dolce solare era sempre insieme al suo cagnolino stimata amata ben voluta dallo sguardo solare su Calcinelli ieri mattina è piombato l'orrore del suo corpo senza vita finito in un campo nel buio della notte il destino impietoso si è abbattuto sulla sua famiglia una dinastia quella dei Rondina storica numerosa che a Calcinelli è stimata e rispettata da tutti Elisa viveva da sola nel suo appartamento in via Flaminia e attendeva con trepidazione un lieto evento suo fratello più piccolo sposato in procinto di diventare papà e poi lei maestra quindi in tanti anche sul nostro sito sui nostri profili hanno social hanno voluto dare un ultimo saluto faceva impressione erano commoventi quei bambini che salutavano semplicemente con un ciao maestra Elisa insomma questo segno che ha lasciato un buon ricordo e che rimarrà per sempre chiaramente una collega dice penso ai bambini che oggi non la vedranno perché oggi si torna a scuola oggi il destino vuole tra l'altro che sia il primo giorno di scuola e al primo giorno di scuola sarà proprio lei a mancare la maestra il comandante della stradale invece dice non bastano gli appelli che si susseguono le campagne di sensibilizzazione specifiche neppure i numeri che fotografano una realtà drammatica c'è un dato che più di ogni altro deve far riflettere passano gli anni e invece di ridimensionarsi questo fenomeno di laga questo fenomeno della guida in stato di ebrezza cioè c'è una marea di gente che guida ubriaca mettersi al volante ubriaca è un'abitudine difficile da estirpare lo si evince dal bilancio delle polizie stradali di Ancona nel 2019 sono stati fermati 180 automobilisti sotto l'effetto dell'alcol in tutta la provincia d'Orica 17 in più rispetto al 2018 e non basta nemmeno aver introdotto l'omicidio stradale il carcere lo sparacchio del carcere non si sa siamo così bisognerà riflettere su questo o forse bisognerà essere più intransigenti fare controlli preventivi magari con dei controlli della polizia stradale a raffica a manetta come si dice in un gergo più giovanile che giornalistico non si può morire così Elisa la maestra piena di vita questo è il resto del Carlino lo zio in lacrime era splendida insegnava la scuola elementare le ex compagni di classe dicono era lei il motore del nostro gruppo e l'ex preside invece la definisce come ragazza seria di grande impegno nel suo lavoro qui tra l'altro è in compagnia di Ron Moss molti che seguono Beautiful la sua popera ormai più che decennale la riconosceranno sia l'attore e oggi purtroppo anche lei che è diventato un volto familiare conosciuto da tutti una collega che dice i bambini la adoravano Alessandra Biagiorri fiduciari della scuola primaria Falcone Elisa era la migliore un esempio per tutti e dice ancora lei cosa dirò oggi ai nostri alunni e adesso invece apriamo l'altra pagina dei giornali dove si parla invece dell'altra vittima di Sonia Faris un'altra persona straordinaria solarissima piena di voglia di vivere di gioia conosciuta da una marea di gente faceva la parrucchiera aveva aperto da poco un locale tutto suo un negozio tutto suo aveva una risata contagiosa dice un'amica ricordo di queste amiche dei clienti appunto della parrucchieria anche nei suoi confronti in tanti hanno voluto lasciare un messaggio sui social ricordandola appunto come una persona straordinaria aveva da poco comprato anche casa e lei lo diceva a tutti era una ragazza semplice pura che metteva tanto amore in tutto quello che faceva e qui ci sono i racconti che sono stati presi un po' qua e là il ricordo preso qua e là di queste persone anche di questa ragazza solare generosa appassionata del suo lavoro sincera ed altruista ma anche tanto bisognosa di conferma era una ragazza semplice pura che metteva tanto amore in tutto quello che faceva e qui parla invece l'avvocato Salvatore Asole o Asole Asole tra pochi giorni dice forse lo ritroveremo in strada a guidare un'altra auto è una domanda provocatoria ma chiaramente ci auguriamo tutti che così non sia e non sarà temo di rivedermelo presto dice in giro con la macchina Giuseppe Farris il padre di Sonia travolta e uccisa l'altra notte all'esterno della discoteca di Senigallia il papà di Sonia che ieri è andato ieri pomeriggio con il suo legale nel luogo dove è avvenuta la tragedia all'esterno della discoteca e l'avvocato dice il papà della ragazza mi diceva sconsolato che il conducente di quell'auto troverà degli attenuanti e potrà tornare presto a guidare gli ho spiegato che ciò che ha fatto però non troverà nessuna giustificazione e sconterà quanto la giustizia prevede per l'omicidio stradale con una pena che può arrivare fino a 18 anni di carcere e anche il Corriere Adriatico dedica un'intera pagina a una delle vittime Sonia una dolce parrucchiera amante del ballo questo è il titolo gestiva un esercizio commerciale a calcinelli la passione per i viaggi condivisa anche con i colleghi diciamo che anche lei insieme ad Elisa erano amanti del ballo lei anche Sonia anche del viaggio se ne andate insieme alla sua amica del cuore travolta da un auto sull'arceviese volitiva gentile innamorata della vita con una bella risata contagiosa Sonia era così scrive il giornale il Corriere l'eco di quella sua allegra vitalità resta nelle parole pronunciate a bassa voce e negli addi sui social a rendere più triste e feroce il senso di una tragedia che testimonia a tutti l'insicurezza e la precarietà della vita banalmente si dice bisogna come dire oggi ci siamo domani chissà e quindi in tanti ieri ce lo siamo detti noi ci preoccupiamo tanto delle cose che hanno poco valore ma ti rendi conto che hanno poco valore solo quando succedono queste cose e quindi poi ci si ferma un attimo forse un po' troppo poco ci si ferma per riflettere cambiamo adesso però argomento pagine alle 7.18 per chi ci segue in diretta apriamo la pagina di Fano del resto del Carlino si parla di un bando di un bando che però i fanesi hanno completamente snobbato perché perché a Fano c'è intanto un problema di case 400 famiglie che sono in lista per gli alloggi popolari attesa che probabilmente durerà durerà secoli perché l'ERAP ha messo a disposizione per ora soltanto 7 appartamenti e così il comune di Fano aveva pensato di chiedere ai proprietari privati coloro che hanno delle case che magari sono sfitte chiuse perché non ci sono non ci sono locatari insomma non ci sono persone che entrano ha chiesto di poter prendere in affitto i loro immobili da dare alle famiglie seguite dai servizi sociali attenzione con dei pagamenti garantiti dall'amministrazione comunale qualora l'inquilino non versasse quindi non c'era praticamente nessun rischio di insolvenza e quindi di non avere l'affitto il risultato però è stato pari a zero il problema qual è? il problema dice che la città non ha risposto al bando perché insomma la gente non si fida e di conseguenza questi appartamenti sono ancora lì sfitti mentre c'è un'altra notizia che secondo me è interessante che andrebbe un attimo sviluppata un po' in maniera più approfondita e che è un allarme che tra l'altro ha lanciato bene comune ovvero quando si parla di perdite d'acqua quelle occulte che magari si vengono a scoprire soltanto quando la bolletta arriva a casa ed è altissima e quindi con delle cifre spaventose a volte o comunque che denotano subito un'anomalia e si capisce che c'è una perdita da qualche parte ebbene ci saranno delle stangate che però pagheranno gli utenti e non più le aziende i sindaci dovranno votare nell'assemblea di ambito un cambio un cambio di regolamento adesso non possiamo entrare nel particolare perché altrimenti ci vorrebbe troppo tempo però per quanto riguarda questa gestione dell'acqua aset e marche multiservizi guadagneranno sulle perdite occulte degli utenti cittadini con l'introduzione di questa nuova forma di tutela che prevede questa costituzione di un fondo volontario che però è peggiorativo di quella già esistente e quindi gran parte di quelle perdite non saranno più come accade ora a carico dei gestori ma peseranno sulle spalle dei cittadini utenti tutti in particolare li troverete comunque sul giornale di questa mattina in edicola il resto del carlino il volo mozzafiato invece delle Befane questa è l'apertura del Corriere di questa mattina ieri ci sono state diverse iniziative tra cui all'aeroporto di Fanno l'arrivo della Befana dal cielo davanti a centinaia di bambini acrobazie e anche velivoli e aereomodelli regalati due voli ed un pranzo a delle famiglie che hanno partecipato in piazza distribuite invece in piazza 20 settembre 1200 calze manifestazioni di grande effetto che ha richiamato come abbiamo detto tanta gente nella piazza principale di Fanno il sogno invece che diventa realtà della vita in terra santa giovani trasformati Don Steven Carboni che è responsabile della pastorale giovanile di Fanno della diocese di Fanno racconta questo pellegrinaggio accompagnato da Monsignor Trasarti il vescovo della diocese di Fanno e da Don Marco Di Giorgio le improvvise tensioni poi esplose in Medio Oriente durante il viaggio non hanno intaccato l'animo dei pellegrini e poi i carabinieri i carabinieri che hanno portato i regali ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale di Fanno un momento bello commovente dove i carabinieri guidati dal capitano Luigi Grella hanno visitato il reparto di pediatria del Santa Croce smog nessuno ci tutela valori fuori norma nei primi 4 giorni del 2020 l'allarme lanciato nel momento 5 stelle per le polveri sottili si muore questo bisogna ricordarlo dal cielo alla terra insomma da cielo e da terra la Befana non delude la città risposta con entusiasmo alla giornata di feste dolciumi nel segno della vecchina prima in aeroporto e poi in piazza 20 settembre qui ci sono alcune immagini alcune fotografie il connubio anche con il carnevale la Maria Flora Gianna Marioli il presidente dell'ente granevalesca dice finalmente le grandi manifestazioni cominciano cominciano a parlarsi politica politica fluida non è finita Marchegiani va con calenda dunque se Massimo Seri anche se non ha ufficializzato nulla sta preparando il terreno per passare con Italia viva di Matteo Renzi non fa mistero non nasconde nulla l'ex vice sindaco Stefano Marchegiani che dice senza nessuna remora mi sono iscritto ad azione che è il nuovo partito di Carlo Calenda e Matteo Richetti e quindi dice io ho la doppia tessera sia del PD che di azione l'operazione del sindaco ridisegna dunque la rappresentanza regionale sul territorio capisco i timori del partito democratico e anche di di rapa dice appunto Marchegiani passi carrabili siamo a Senigallia permessi non pagati multe non mancano però gli errori da parte di chi controlla e così arrivano anche le proteste al lavoro anche per scovare i furbetti poi la notizia è che in piazza Garibaldi a Senigallia il cielo sterrato stellato resterà così com'è almeno fino alla fine del mese di gennaio dunque le luminarie che tanto hanno colpito l'immaginario e hanno emozionato resteranno accese il cielo dunque che ha conquistato tutti continuerà a risplendere almeno fino come dicevo alla fine del mese la cronaca di Senigallia invece dal Corriere se ne va anche tutto per le scarpe che è un negozio Pegoli consegna dunque le chiavi del locale la bottega storica chiude i battenti dopo 110 anni giù la serranda anche per la Novottica 80 ma Senigallia è in lutto anche perché piange la scomparsa della vulcanica Lina Anna Bernacchia aveva l'agenzia sotto i portici di Palazzo Gerardi i funerali si celebreranno oggi alle 10 nella Chiesa della Pace oggi alle 14 e 30 Cordoglio è stato espresso anche dal Movimento 5 Stelle perché è la mamma della portavoce Elisabetta Palma siamo in chiusura velocemente Urbino il Palazzo Ducale è travolto dai visitatori la prima domenica di gennaio ha toccato quota 4.305 turisti il 2019 si chiude con un bilancio notevole più di 270.000 biglietti staccati Marco Pierini dice gli eventi più importanti vanno spostati nei periodi considerati più morti poi la Befana che scende tre volte dal cielo bambini invisibilio trionfo di dolci l'ex lavori all'ex fornace invece a terre roveresche cercasi nome per la piazza oltre al marciapiede in costruzione a Orciano il progetto prevede luce a led interventi sul parcheggio e un'area pubblica sotto la ciminiera e ancora dai quotidiani Valmetauro il Corriere la sicurezza siamo a Fossombrone la sicurezza sarà garantita con 6 nuove telecamere provvedimento della giunta per sostituire quelle del 2007 che ormai sono obsolete necessario un investimento di 43 mila euro per ripristinare la sorveglianza in centro storico sempre dal Corriere da Mondavio tutti insieme a San Filippo per la foto ricordo del 2020 l'immagine replica quella di 20 anni fa per il presepe visitatori anche giunti anche da Ravenne con questo chiudiamo qui la nostra segna stampa grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia e vi ricordo il nostro numero di telefono che avete appena visto e che serve per le segnalazioni grazie per averci seguito buona giornata a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti